Bentornati a tutti quanti voi sono lieta anche oggi di avervi qua sul mio canale grazie di cuore siamo da poco siamo da pochi giorni diventati 52mila questo video lo sto registrando il 24 no il 23 oggi è il 23 di febbraio ma uscirà credo per la prima mi pare settimana di marzo grazie veramente a tutti ho cercato di ottenere più silenzio possibile ma purtroppo non c'è l'assoluto silenzio fuori ci sono i cani che appaiano ragazzi questo di oggi per me è un video molto speciale a parte che vi ho detto siamo diventati 52mila quindi auguri a noi ma volevo anche rendervi partecipi di un regalo molto speciale che ho ricevuto nell'ultima settimana e è un regalo molto molto speciale che mi ha fatto un mio carissimo carissimo amico veramente tanto tanto caro a me sto parlando di davide grazie davide per il bellissimo regalo che mi hai fatto questo di oggi ragazzi sarà un video ma sarà anche una specie di unboxing perché vi farò vedere chiaramente io l'ho già aperto il regalo che mi è arrivato ho il piacere di dirvi che nella nostra famiglia è entrato a far parte un nuovo microfono che mi ha regalato appunto davide grazie tesoro con immensa sorpresa qualche giorno fa mi è arrivato un pacco e io mai mi sarei aspettata di trovare qualcosa di simile e dentro ho trovato oltre che delle bellissime parole dedicate a me chiaramente ho trovato questo splendido regalo e il nuovo microfono fai fine e il microfono fai fine molto simile al blue yeti ovviamente ogni microfono ha la sua caratteristica questo è molto simile al blue yeti e farò successivamente anche un video dove sentiremo un po' i suoni come li cattura questo nuovo microfono che mi è arrivato ce l'ho qui davanti eccolo qui eccolo qui come potete vedere già sulla confezione si può notare che è proprio molto simile la riproduzione estetica e molto simile al blue yeti di fatti anche lui ha lo stesso pattern anche il gain quindi per me è stato davvero molto facile e intuitivo da usare come se avessi un secondo blue yeti è stata un'immensa gioia per me aprire questo pacco vi faccio vedere come lo andiamo ad aprire piano piano si presenta così qui lo scatolo lo scatolo e non vedo l'ora di usarlo lo scatolo lo scatolo lo scatolo si apriamo piano piano è ma si E' così facile. l'ho già utilizzato in una live, anzi in due live, però poi l'ho rimessa a posto perché ci tenevo a fare l'uscita su YouTube. Devo ammettere che quel microfono, ragazzi, questo nuovo microfono cattura i loud sound proprio in maniera eccezionale, cioè sono rimasta proprio ultra mega soddisfatta. Eccolo qua. Il nostro nuovo gioiellino. Come potete vedere è molto simile al brujerbino. Mi sono innamorata appena l'ho visto. Qui c'è il supporto. Credo che questo supporto non vorrei dire una cavolata perché non l'ho provato ancora. si metta sull'asta dove si appoggiare il microfono, eventualmente lo si volesse fare. In questa scatola invece è contenuto il cavo USB del microfono che è identico al Blue Yeti. È un microfono facile da utilizzare esattamente come il Blue Yeti, quindi qualora sareste interessati ad acquistarlo, per collegarlo anche al telefono basta prendere un adattatore ed è fatto intuitivo come il Blue Yeti, molto facile. Ecco questo è il cavetto. che è anche abbastanza lungo. È come quello del Blue Yeti, che lunghezza. e poi andiamo a prendere lui. Cercherò di prenderlo delicatamente. Eccolo qui come si presenta ragazzi, come si presenta. Naturalmente l'audio che state sentendo provene dal Blue Yeti perché il microfono non è collegato. Allora, vi mostro. Qui c'è il logo del microfono, qui c'è il tasto on off e qui c'è il volume delle cuffie. da quest'altro lato, da quest'altro lato, da quest'altro lato c'è il pattern, esattamente come Blue Yeti e c'è la modalità binaurale, quella diciamo a 360 gradi, quella cardioide e quella cattura l'audio avanti e dietro. Quindi solo petto pecco. E questo invece è il gain, esattamente come il Blue Yeti. Quindi spettacolare. È come avere in famiglia il fratello del Blue Yeti. E chiaramente nel prossimo video cosa potrò fare? Testarlo con voi. Chiaramente io l'ho già testato. So che veramente ne vale la pena usarlo. Specialmente con i Monsound. Però lo faremo in un secondo video. Il test. Questo era soltanto un video dove farvi appunto vedere il regalo che ho ricevuto. e non smetterò mai di ringraziare il mio amico Davide per questa splendida sorpresa. Avremo poi alcuni video dove testeremo come vengono i trigger su questo microfono. e non li compariremo ai Blue Yeti. Chiaramente ogni microfono ha il suo di audio. Quindi ci divertiremo un po' a vedere cosa ci trasmette, che sensazioni ci trasmette. Alessandro vino un po' a vedere cosa è veramente l'agentità. All'agentità con i Monsound. E il loro altro coraggio. E io non ho dovrò già. E io non ho do l'agentità. E io non ho dovrò già. E io non ho dovrò già. ma poi si chiude anche e si ripone proprio in maniera guardate come si chiude poi per riporlo, per metterlo a posto e poi lo si mette appunto nella scatola così come stava prima io l'ho già portato in live come vi stavo dicendo e è piaciuto veramente a tante persone specialmente su tiktok poi l'ho portato in live anche sulla piattaforma viola e l'ho collegato assieme al proietti e devo dire che la gente ha apprezzato tanto l'arrivo del fai fine non sono la sola ecco mancava farlo vedere a voi qui su youtube io ho 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 Grazie. Rimanete sintonizzati su questo canale perché il prossimo video sarà fatto con questo microfono che non vedo veramente l'ora di utilizzare. Rinnovo ancora una volta i miei ringraziamenti a Davide, come sempre sei super carino con me, grazie di cuore. Noi ragazzi ci rivediamo al prossimo video, scopriremo che suono fa il fai fai. Ciao.